Il cardinale Gualtiero Bassetti, a cevescovo emerito di Perugia, città della Pieve e fino a maggio scorso presidente della conferenza episcopale italiana, è intervenuto a San Giovanni in un incontro durante il quale sono state ricordate due figure a lui particolarmente care. Giorgio Lapira, il sindaco santo di Firenze, e Don Franco Moretti, un sacerdote della diocesi d'Arezzo da poco scomparso. Due uomini di pace, ha detto il cardinal Bassetti. In un momento in cui prevalgono i litigi, i contrasti e le contrapposizioni, direi che sono due figure profetiche. Figure profetiche vuol dire che hanno trovato l'ispirazione giusta per il momento giusto in cui sono vissuti. E particolarmente Lapira, con la sua grande esperienza che ha avuto non solo di Firenze, ma anche internazionale, è una figura che andrebbe ascoltata molto, molto di più. Oggi per il Mediterraneo è necessaria una profezia di pace. Ed è per questo che io ho fatto due convegni, uno a Bari e l'ultimo a Firenze, proprio per parlare di questi problemi dell'Europa, della pace e soprattutto di quello che possono fare i popoli vicini del Mediterraneo. I cristiani, gli ebrei, i musulmani, nascono tutti da Abramo. Allora, se si ricompone, come diceva Lapira, questa famiglia abramitica, se anche in nome proprio della religione, che Dio è unico, che Dio è provvidenza, che Dio è misericordia, che Dio vuole la pace, se mettiamo insieme queste cose nelle quali noi crediamo perché ci vengano da questa radice comune, possiamo essere una testimonianza di pace per tutto il mondo.